Dopo due anni di pandemia c'è voglia di tornare a viaggiare e la Toscana è pronta ad accogliere turisti da ogni parte del mondo. A Lucca si tiene By Tuscany, l'evento organizzato da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, per presentare le bellezze artistiche e naturalistiche della Toscana agli operatori turistici italiani e internazionali. L'edizione 2021 vede la presenza di 94 responsabili acquisti di aziende italiane e 113 buyers internazionali dei più importanti tour operator provenienti dai maggiori paesi europei ed extraeuropei. 93 aziende toscane sono pronte a raccontare la nostra regione con pacchetti e proposte innovative. L'interesse e l'attenzione verso la Toscana degli operatori nazionali e internazionali è evidente, c'è anche tanta voglia di ricominciare, quindi il By Tuscany significa anche esaudire questo desiderio di ritrovare una normalità negli scambi, ma oltre a questo c'è davvero tanto interesse che deve essere coltivato, rispettato e adeguatamente abbiamo la necessità di rispondere a questi interessi con altrettanta capacità di offrire il meglio. L'edizione 2021 è una delle più partecipate di sempre, soprattutto degli stranieri, in particolare americani, ma c'è grande interesse anche da parte di Canada, Francia e Germania. Sono sette i temi e i prodotti turistici al centro della campagna di promozione Toscana Rinascimento Senza Fine, finanziata dalla regione. Il mare, i borghi con i loro sapori autentici, le vacanze in mezzo alla natura e all'aperto, quelle nel segno del relax e della cura di sé, il viaggio per vivere eventi e cultura, le città d'arte e i soggiorni più lunghi per chi sceglie la nostra regione come luogo dove svolgere lo smart working. Il numero di buyer stranieri italiani che hanno deciso di partecipare è già un grande indicatore di questa evidente voglia di ripartenza, di un 2022 ricco, di tanti ospiti, di tanta organizzazione turistica, quindi noi siamo particolarmente contenti. È sicuramente uno dei buyer stranieri più numerosi e più frequentati degli ultimi anni. Questo per noi appunto è un segnale sia dell'efficacia dell'azione della nostra agenzia ma anche una conferma dell'estrema attrattività che la regione toscana e il suo territorio è in grado di esprimere. Quest'anno la manifestazione racconterà la Toscana anche attraverso dieci tour informativi dedicati alle città d'arte che hanno subito maggiormente il contraccolpo della pandemia e all'enogastronomia locale con assaggi di prodotti grazie al progetto regionale Vetrina Toscana. È molto positivo questa grande partecipazione, sintomo che c'è una voglia di Toscana, una voglia di ripartenza, una propensione rinnovata ai viaggi e noi proponiamo un prodotto che è già straordinario di per sé.